attenti eh sali 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 aiuta aiuta vai 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 e vieni lungo e mezzo alessandro esci Alessio aspetta Alessio bravo bravo dai Ricchi dai Ricchi Alessandro vieni vieni veloce vieni vieni ma non ho fatto il vaccino non so ma non va bene riposate c'è anche il mare vieni Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.